Bene, siamo alla prima edizione di Alzanesi in Arte, una mostra e concorso artistico riservata da artisti alzanesi, quindi o nati ad Alzano o residenti ad Alzano. Hanno risposto all'appello una quindicina di artisti, tra pittori e scultori. Qui nella sala ipogia di Palazzo Pelandi abbiamo esposto le opere, ogni artista concorre con un massimo di tre opere. Oggi ci sarà la presentazione alle ore 15 della manifestazione con la giuria e l'assessore che darà il via alla mostra e al concorso. Domenica prossima alle ore 17 ci sarà la premiazione con la giuria di cui fa parte il professor Panigada, direttore del Museo d'Arte Sacra San Martino, la professoressa di Storia dell'Arte Orietta Finessi e il gallerista di Alzano Mario Mazzoleni, quindi una giuria di eccezione che prenderà visione di tutte le opere, del background degli artisti e proclamerà l'opera più rappresentativa e poi ci sarà una speciale menzione per l'artista più giovane. Quest'anno è la prima edizione, abbiamo scoperto tanti artisti alzanesi, speriamo anche con l'aiuto dei corsi d'arte che stiamo organizzando con l'associazione Arte Sul Serio l'anno prossimo di aumentare sempre di più il numero e così di scoprire tanti talenti made in Alzano. Speriamo che questa grandissima iniziativa e grande novità vi sia piaciuta e un saluto da Alzano TV. Grazie a tutti.